Buongiorno a tutti, allora Filpettina da Brrr che freddo che fa perché dobbiamo parlare sempre di sci. Dopo avervi fatto lo slalom speciale femminile da Linz vi racconto anche il super G maschile da Bormio del 29 12 2021 perché poi il giorno successivo che poi sarebbe ieri hanno fatto il bis e vedremo com'è andato il bis ma intanto andiamo a vedere com'è andata la prima gara di super G maschile da Bormio perché il primo a scendere è il nostro Mattia Cass, vediamo che cosa farà il nostro giovane virgulto si fa per dire visto che comincia anche lui ad avere qualche annettino, è sempre giovane rispetto agli altri però è una via di mezzo tra i veterani e i giovanissimi ecco. Il suo tempo finale è 1 29 43 purtroppo essendo il primo a scendere non abbiamo nessun riferimento vedremo vedremo come andrà. Tocca a Kritschmeier una buona prova dopo un primo intermedio addirittura in luce rossa di 55 centesimi che ci ha fatto ben sperare sulla gara di casse e invece nel resto della manche se mi passate il termine vola letteralmente e si prende nettamente al primo posto con ben 63 centesimi di vantaggio. Non diciamo nulla, è Kritschmeier, ricordiamocelo. Tocca a Paris, vediamo il re dell'Astelvio in discesa libera come se la cava sulla stessa pista ma in versione super gigante. E purtroppo tra la discesa libera e il super G c'è una bella differenzina e infatti è soltanto quinto con ben 1 e 33 di ritardo. Il super G purtroppo non è la discesa libera tenendo conto che Paris è sceso con il 7 se non ricordo male, quinto dopo 7. Con il pettorale 11 scende Kilde e fa una gara ma una gara che non è da libidine, non è da doppia libidine, è da doppia libidine coi fiocchi. Direi gara quasi perfetta o perfetta perché francamente errori non se ne sono visti, sempre in luce verde e con ben 88 centesimi signori 88 centesimi si prende il primo posto e direi pronto? Sono Kilde, buongiorno, vorrei prenotare il podio con vista primo posto, grazie, perché credo proprio che sarà dura stargli davanti. Tocca al nostro innerhofer, vediamo se questa volta rispetto alla discesa riesce a fare una buona gara. Alla fine ottavo con un ritardo di 1,66 con un errorino di troppo che però gli costa forse uno o due posizionciale, come si suol dire, poteva stare lì vicino al buon cassa invece leggermente dietro. Però dai non è male, non è male. Vedremo se riuscirà a stare nei 10, sicuramente sarà nei 15, non penso che uscirà dai primi 15, vedremo. Comunque, la classifica di questa Super G, dopo la discesa dei primi 30 atleti, vede Kilde felicemente al primo posto, un sorprendente Aser al secondo, Kritschmeier beffato da Aser è terzo, quindi abbiamo Ko-Shang Siegel al quarto posto, il buon Feuze, e Feuze è sempre lì. Discese Super G, lui è lì, è sempre lì con vista a podio, vittorie eccetera. Certo, due anni fa, prima del Covid, eccetera, se la giocavano lui e il buon Paris, poi Paris si fece male e Feuze, beh, vita facile. Al sesto posto abbiamo Bele, al settimo Rogentina, che lui è sceso con pettorali alti, all'ottavo Odermann, al nono Gisendaner, Gisendaner, adesso la pronuncia non mi viene bene, però comunque Gisendaner, e al decimo posto il nostro Mattia Cass, che si spera riesca a stare nei 10. Con il pettorale 32 scende il nostro Bosca. Gara non positiva, è solo ventottesimo con un ritardo di 2 secondi e 60. Sarà dura che riesca a stare nei 30. NCS, non ci siamo. Tocca al nostro Giovanni Franzoni, pettorale 38. Vediamo cosa combina il nostro giovane sciatore. Purtroppo è ultimo, con un ritardo di 4 secondi e c'è una cosa brutta, 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 brutta. Alla fine della gara la classifica dei primi 10 rimane invariata, quindi è inutile che ve la rileggo, però se volete ve la rileggo, tanto il video è stato veloce, quindi vi rileggo velocemente la classifica dei primi 10, primo Kildes, secondo Aser, terzo Kritschmeier, quarto Koshansigl, quinto Foyz, sesto Belé, settimo Rogentino, ottavo Oderman, nono Gisendaner e decimo Kasse. Per quanto riguarda gli altri italiani, Inerhofer scende al tredicesimo posto, era ottavo, è sceso al tredicesimo, Paris scende al ventiquattresimo posto e fuori dai 30 abbiamo al trentaduesimo posto a pari merito Marsaglia e Bosca, con la differenza che Marsaglia è sceso con il 54, Bosca col 32 e al cinquantatresimo e cinquantatquattresimo posto rispettivamente Franzoni e Franzosi. Detto questo ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, vedremo come è andata la gara ormai di ieri, ma che si è disputata il giorno dopo questa, sempre a Borbio ed è sempre un super G, vedremo se avrà fatto il bis, il buon Kilde o se magari qualcun altro è riuscito a beffarlo, sarà dura però, tutto può accadere. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!